arriva da dietro il nostro camera siamo qui con una bellissima sposa di brescia giusto esatto esatto come ti chiami valentina 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 futura sposa giusto la sposa quando 19 maggio quindi forse ti sposi il 19 maggio con chi con mattia allora dimmi subito un pregio e un difetto di mattia difetto è pigro è pigro è buono quindi sarà bravo poi e il pregio non si può dire ok allora io ti voglio far vincere un freddin del convento di lunato mi devi dire il significato della parola deltoide cos'è la deltoide o cos'è il deltoide oddio deltoide 1 deltoide 2 deltoide 3 ci sei andata vicina è un muscolo della spalla è una parte del corpo dovevi dire dove per vincere questo fantasio freddin allora salutiamo il tuo futuro marito ciao mattia e anche già convivente giusto lo salutiamo e gli auguriamo tanti auguri ciao 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 ciao